Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo degli ESC per MiniQuad BL-Eli a 32-bit. Si tratta di questi Racer Star 30A Anniversary Special Edition, se volete acquistarli vi lascio il link in descrizione. Questi ESC Racer Star hanno il firmware BL-Eli 32, quindi sono compatibili col protocollo D-Shot 1200 che è il più veloce e performante disponibile al momento. Oltre il D-Shot 1200 sono supportati tutti gli altri protocolli come il D-Shot 600, 300, 150, il One-Shot 125 e 42 e il Multi-Shot. Il microcontroller integrato è un STM32F051 e il firmware può essere aggiornato tramite Betaflight Pass-Through con il BLE e il Configurator. Se avete bisogno di fare l'aggiornamento firmware potete seguire la mia guida cliccando il link qui in alto. Il Racer Star 30A BL-Eli 32 supportano batterie 2, 3 o 4S e sono di tipo opto, ovvero non hanno un becco integrato, questo per contenere peso e dimensioni che andiamo subito a vedere. Siccome questi ESC hanno i pad per collegare i motori scoperti non c'è alcun bisogno di rimuovere il termorestringente, quindi le dimensioni che otterremo saranno di qualche millimetro in più di quelle reali. La lunghezza è di 30 millimetri, la larghezza è di 16 millimetri e lo spessore è di 5,7 millimetri. Il peso è di 6 grammi. Quando farete collegamenti vi consiglio di far fare 2 o 3 giri al cavo segnale su quello della terra, questo per rendere più stabile il cavo segnale e per evitare interferenze col polo positivo. Il peso e le dimensioni contenute, oltre a un prezzo veramente basso, rendono questi ESC un prodotto consigliato per tutti i droni racer o freestyle. Per concludere questi ESC Racer Star 30A BLE 32 sono la scelta indicata per chi vuole assemblare un mini quad che possa sfruttare tutte le caratteristiche più moderne disponibili al momento. Questa era la mia recensione degli ESC Racer Star 30A Anniversary Special Edition, grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Grazie a tutti.